26 novembre 1939 nasce Tina Turner la cantante statunitense raggiunge il successo negli anni 80 i singoli what's love got to do with it e we don't need another hero ma soprattutto l'album private dancer che vende 11 milioni di copie la lanciano come star internazionale siamo agli ultimi istanti